Ciao ragazzi, qui Ema dei Lost Forgotten Gamers, bentornata a Mystic Quest, tredicesima puntata. Siamo nella caverna Medusa, stiamo cercando l'ice, la magia del ghiaccio, ci serve per andare avanti. Abbiamo visto ben due punti dove ne abbiamo bisogno per forza. Ma mori ombra cazzo, mamma mia, sono coriacissime. Ma ci dovremmo quasi essere, l'ice dovrebbe essere da queste parti. Manca un mostro? No, è stato trucidato da mamma, si vede. Ok, stanzetta vuota, le strade si restringono, andiamo di sotto. Ormai ci dovremmo essere veramente, anzi, diamo una spallata qua. Niente, era qua, la forza. Ok, quasi continua. Mori. Aioh, ma cos'è? Eh sì, è polisogno. Non mi ricambiare magia. Qua niente. Allora, dietro questi... Questi ampi potrebbe esserci pure un passaggietto, però prima andiamo a vedere la porta, va. Ragazzi, proviamo. Non me lo ricordo, non mi ricordo assolutamente, quindi proviamo se dovremmo spiegare un po' di matto. Ok, vabbè. Uno. Due. Porca puttana. Tre. Vabbè, sono spiegati completamente, sono spiegati completamente. Perfetto, quattro mattox spiegati. E, Lys, ancora non l'abbiamo trovato. Allora, andiamo a vedere sotto. Niente. Andiamo sopra. E qua ci siamo venuti, pure qua ci siamo andati. Ragazzi, ho l'impressione di essermi perso. E qua pure ci siamo andati. Sopra penso ci sia bisogno del... No, qua è stata la strada di prima. È stata la strada di prima, proprio. Eh sì. Aio. Ragazzi, mi sto scocciando di girare intorno a queste stanzette. Qua pure. Vediamo lì a destra. Noi. E lascio un flame. E ora li butto tutti sti flame. Eh, non possiamo stare qua. Ancora un'altra puntata a cercare l'iceo. E' un po' vallo, ragazzi. Eh no. Qua niente. Neanche qua. Mazza st'ombra, maledetta. Nono di qua. Scusate, ragazzi. Amanda, won't you came along with me, said... Qua si esce. Eh, vaffaculo. Come se stiamo all'inizio. Un'altra volta, arriviamo al passaggetto. No, non voglio prendere il ciocobo. No. Stai io al ciocobo, metti io? Vabbè, anzi, sì. Non mi fa fare il giochetto. Ragazzi, ho perso un sacco di tempo. Probabilmente... E questo otto non mi sta riuscendo. Eccolo. Andiamo dentro. Wait for me. Mi vale un déjà vu. Amanda, I'm glad you're back. Ma ho contento che sei tornato. Eh, lo so, che sei tornato, lo so non tenta, ma io... Sto cercando sto cazzo di Ice, ragazzi. No, guarda, ma se ce l'ho, eh. No. Ma che tante volte dovresti prenderlo prima... Prima di entrare qua dentro? Can't carry. No, no. Mettiamo un po' di robaccia. Un po' di flame. Ma che stava fuori l'ice? Del banca S, eh. Non lo escludo, però. Ops. C'è un altro flame da buttare. Via. Questi che lascio? Ah, questi ho l'header, perché stavo quasi per non prendere un bolletto di l'header. Quindi l'ice stava fuori, secondo voi? Ma mi pare tanto strano, veramente. Allora, tu. Vai. Ci dobbiamo ammazzare qua i mostri, non si sa mai. Mori. Anche perché sopra... Fuori dove c'è? C'è stato solo Giad. E poi qualcuno, mi pare che a me, non si mi abbia detto che l'ice... ...sa da qualche parte nel deserto. Andiamo qua. Allora, qua non trovo niente. Non vedo niente. Vediamo di qua. No. Qua niente. E qua ci abbiamo controllato. Qua non c'è niente. E qua. E qua. E va, affanculo. Andiamo a destra. Qua sotto? No. Qua a destra. Qua a destra e qua ci siamo andati prima. E ora ci torniamo sicuramente, perché non capisco di quale altro possa essere. Qua non troviamo i dati. Niente. 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 Qua pure ci siamo stati, sicuramente. Fatemi ammazzare. Vi ho visto tante volte che dovresti uscire fuori i bolletti nascosti. Dark. Fuori. Niente, nessun bolletto nascosto. Andiamo di qua. E questo è l'ingresso. Azzia, è un mistero. Torniamo sotto. Andiamo di qua. Usiamo il mattock. Ne sarà sfuggita una stanza qua sotto. Equip. No, non questo. Non questo. Ah, è. Mattock. Il nostro ultimo mattock della serie. Poi abbiamo un altro da 7. Forse ci siamo diventati qualcosa veramente qua. Ma questa è veramente strana, è una stanza. Level up. Strana questa stanza. Facciamo salire un po' di power adesso. Strana perché... Sembra quasi che debba compriere qualcosa al centro. Sì, mi lascio... Ah, mattock, grande. Ma. Che fa queste cose? Credo che si possano rompere. Diamo un'occhiata, eh. Ah no. Perfetto. Pensiamo che non mi trovi proprio così. Non posso farci niente. E' strano, eh. Non è un tipo da rompere niente. Boh. Andiamo di qua. Quindi veniamo da sopra. Andiamo giù. Niente. Andiamo a sinistra. E' qua. E' qua. A me vale che non è che abbiamo tante scelte. Andiamo di qua. Qua pure. E' una che abbiamo altre scelte. Andiamo di giù. Qua. Qua non c'è niente. Qua niente. Andiamo qua a sinistra. Ma noi lo conosciamo bene in questa stanza. Mi muori. Da questa ti lasciano il pillow e lo butterò dopo. Allora, qua sopra si passava. E mi pare che ci eravamo già andati. Mi muori, guardiamo. Comunque. Adio. Qua niente. Qua niente. E lo facciamo di qua. Dark. Forse qua ci manca qualche stanza che non l'abbiamo visto. Bastardi. Muori. Sopra. Forse qua. Forse mi sembra che ci sia stato pure qua. Diamo un'occhiata. Sapete ragazzi. Comunque con torto. Perché tante stanza che mi sembrano simili. Magari ci sono stato. Locked. No. Questa che sono stato prima. Farno di tornare. Per volo indietro. E' un vaffanculo stone. Cura me va. La corsa. Hai io io trovi stone. Mi curi dallo stone. Muori. Dark. Non mi interessa. Andiamo giù. Aio. Mi sto lasciando ingannare sicuramente. La struttura. Locked. Questa ecco. Questa non mi ricordo dell'aperta. Apri. Oh vaffanculo. Una semplice fonte. Lui pensavo di aver trovato qualcosa. No. Niente. Quindi neanche di qua. Ragazzi. Torniamo un attimo indietro. Aio. Torniamo un attimo indietro. Vediamo quella porta chiusa. Anche se la vuoi aperta io. L'ordine. La vuoi aperta. Non è una porta. È un muro da spaccare insomma. Mattock. E niente. Qua serve. Serve l'ice qua. Forse. Poi ci dice in pratica che è così. E qua dobbiamo congelarli poi. Dai io posso provare. Dai io. Tu hai spiegato un matto che è così. Io posso provare a spingerli però. No. E questa me ne ammazza. Dov'è open. Posso provare a spingerlo. Tante volte. Eh. Neanche se apri. Vedete. Deve essere buon po' passo di neve. Voi direte. Ma portalo dall'altra parte. Beh. Perché non è che c'hai tutti i corti. Proviamo che può. Credo pure essere. Non so far coglione. Ma non credo che si possono spostare da stanze a stanze. A andare strano. Non fatti. Non li puoi spostare. Eh ragazzi. Qui. Un bel mistero. Un pillo. Questo è da buttare. E' un bel mistero. E dovrò cercare ancora. Sirebbe curioso. Dovente se fossero. E là. Se fossero in un'altra locazione. Muori. Anche perché non ne ho idea. Dove potrebbe stare. Allora. Qua a metà a sinistra. Cosa c'è? Allora. Andiamo a guardare un attimo. Perché. Vabbè. In questo posto era simile a uno che avevo già visto. Ma forse è solo simile. Non era lo stesso. Andiamo giù. Locked. Infatti questo non me lo ricordo. Locked. Dobbiamo. Allora. Una stanza chiusa. Potrebbe comparire qualcosa. Andiamoci per vinti. Mori. No. Non è comparso niente. Questo è ancora più strano. C'è un'altra stanza chiusa. Non è un'altra stanza che compaia niente. Noi stiamo cercando il nostro ice. Bastardi. Dai. Altro secondo. E sono libero. Ragazzi. Vremente strano. Andiamo sopra. No. Che riapriamola. Guarda. Non spiega solo. Chiavi e matto. Mi sembra tanto. Eh. Ragazzi. Il problema è che qui deve essere ice. Ma proviamo con la carriera. Non vorrei sbagliare. Non vorrei. C'era un nuovo. Fin dall'inizio. Proviamoci un attimo. Perché quello apre la porta. Vediamo un po' che qua. Ma vaffanculo. Ecco. Esolto il mistero probabilmente. Ho fatto sprecare tanto tempo. A me. E a voi. E alla fine stava probabilmente di qua. Found the magic book of ice. Learn ice. Non lo lasciano ingannare da quelle cazzo di mattonelle. Pensavo che hanno bisogno pure qua dei pupazzi. Invece. Allora possiamo andare. Dovrebbe essere di qua. Come se è stato fino adesso. No. Infatti non era di qua. Andiamo su. Aio. Mettiamoci la cure. Ci ha fatto perdere molto tempo. Molto più del previsto questa caverna. Vaffanculo ombra. Andiamo di qua. Locked è un'altra chiave. Locked. Locked. Eccola qua. No. Vaffanculo ombra. Questa era la ponte. Apri. È proprio labirintica questa caverna. Cosa. Stone. Non ho tempo da perdere. Digamone. 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 Leggiamo. Le ma da buttare. Molnezza. Muori. Muori. E spacchiamo qua con il nostro Mattock. Ok. Ci siamo ragazzi. Divaggiamoci dell'ice. Non per adesso. Ma per la schermata successiva. Intanto spingiamolo. Il tempo sta per scadere. Però intanto siamo arrivati qua. Vi farò vedere come. Transformando. Ci si può comandare l'ice. Vedete. Aiuto. Devo spingere questo pupazzo insieme al coso. Lo spingiamolo subito qua. E si apre la porta. Ottimo. Vaffanculo. Amanda. Avete capito ragazzi. Molto tempo sta proprio per scadere. Quindi. Vi saluto. E ci vediamo nella prossima puntata di Mystic Quest. E sicuramente andiamo avanti. Troveremo meduta. Ciao da Emma ragazzi.